Sai qual è il primo termine che mi viene in mente quando annuso questo vino? No. Wow! Wow! È pazzesco! Non so cosa ne pensi tu. A me vengono in mente invece sentori di miele, sentori di glicine, una lieve nota vegetale e comunque una complessità che se adesso tiriamo fuori tutti i profumi che sentiamo il video dura cinque minuti quindi è un vino veramente da scoprire. Non me lo aspettavo da un trebbiano spolettino. È un trebbiano spolettino, infatti da differenziare da quello che è il trebbiano toscano. Che è completamente un altro vitigno. Assolutamente ma questo da tutti gli altri sentori e ripeto una complessità per me inaspettata. Io devo dire che raramente sento dei profumi così su un bianco, raramente. È un 2019 ma la complessità di un vino da lunghi affinamenti. Fa 13 gradi e mezzo di alcol ed è fatto in maniera anche un po' particolare. Assolutamente perché è un processo che è molto particolare perché loro raccolgono le uve la mattina presto con il fresco. Siamo ottobre, fino a ottobre, primi di novembre e la prima cosa che fanno prendono le uve e le mettono dentro una botte e le lasciano lì per 24-36 ore. Dopodiché le prendono, le diraspano, fanno la loro bella pigiatura soffice e poi dopo la pigiatura viene lasciata di nuovo 24 ore sulle botti. Sì, allora dopo queste 24 ore passa un mese in acciaio a riposare e dopo altri 4-5 mesi durante i quali viene fatto del batonage che giusto per mettere i puntini sulle i non è altro che il meccanismo per rimettere in sospensione i lieviti e poi dopo di questo altri sei mesi in bottiglia di affinamento. Il risultato? Il risultato, ve l'abbiamo appena detto, è un vino eccezionale. Onestamente io non so se il risultato è dovuto al vitigno, è dovuto a questo processo leggermente atipico, ma ragazzi avete fatto un grandissimo lavoro. Il nome Valdangius, che potrebbe sembrare il nome di una valle, di fatto è l'acronimo che viene da Val, sta per valle, Dan Danilo che è uno dei fratelli, Giù Giuseppe è il papà e la S a Sandra che è la sorella di Danilo e quindi hanno creato sto nome che si chiama Valdangius. Io all'inizio pensavo fosse una valle tipica di quelle zone là. È una famiglia che da quattro generazioni fa vino, facevano anche dell'altro, avevano bestiame eccetera, ma hanno cominciato con il vino nel 90 e facevano le tipiche damigiane. Poi è arrivato Danilo e Danilo ha incominciato a fare il processo di portarlo in bottiglia e devo dire che sono stati veramente bravi, anche perché non ci hanno mandato solo questo, ci hanno mandati altri tre vini di Montefalco Sagrantino e sono veramente grandiosi e ci auguriamo anche di poterli raccontare in un'altra occasione. Abbinamento? Beh allora per un vino così complesso a me viene voglia di una zuppa di pesce o un pasticcio di pesce. Io anche in aperitivo devo dire che questo qui mi dà delle soddisfazioni eccezionali. Anche se non è un passito. ma tra i tre vini che ci hanno mandato tre c'è anche un passito. Ringraziamo Sandra, Giuseppe e Danilo di Valdangius. E complimenti veramente. Complimenti perché è veramente un prodotto eccellente.